Quanti di voi passeranno le vacanze in Italia? Quando ti svegli la mattina? Molto presto. Quanto costa questo libro? 40 euro. Quanti figli avete? Un maschio e due femmine. Dove abiti a Madrid? No, abito a Lisbona. Come trovi i tuoi colleghi? Sono simpatici. Quali progetti sta realizzando la tua ditta? Quanto durerà il film? Circa un'ora e mezzo. Chi conosci a questa festa? Solo tuo figlio. Quanta gente è venuta all'inaugurazione? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo sport preferito? Il calcio. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai cominciato a lavorare? A 22 anni. Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. Vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono chalet. Quei profumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei begli uomini. Come lo vuoi il caffè? Stretto o lungo? Cosa vuoi fare? Uscire o dormire? Chi te l'ha detto che sono uscito? Perché non vieni anche tu con noi? Quanto costa questa giacca? Quando torna Enrico da Milano? Quale sarà la scelta di Mario? Dove ha messo le chiavi Gianni? Cosa hai detto a Michele? Come facciamo ad andarcene? Cosa succede domani mattina? Chi ti ha salutato al concerto? Perché non andiamo a mangiare? Quanto tempo avete per finire? Dove andate domani sera? Cosa hai fatto stamattina? Quante persone hai invitato? Con chi stavi parlando prima? Qual è il tuo numero di telefono? Mi dici che ore sono adesso? Cosa ti è successo al cinema? Quando aprono i negozi? Come si chiama il tuo gatto? Quanta gente va allo stadio? Di chi sono questi guanti? Perché sei stato licenziato? Perché mi dici queste cose? Cosa facciamo questo sabato? Chi è l'uomo che ti saluta? A che ora devi andare via? Quanto tempo stai in città? Quando tornate dalla Spagna? Chi è il tuo migliore amico? Dove siete stati questa estate? Di che colore è la tua auto? Sono andato allo zoo Abito al quarto piano Parlo ai vicini di casa Andiamo all'università Abito all'ultimo piano Parliamo agli insegnanti È all'interno della casa Telefono alle mie amiche Telefono alle mie amiche Telefonano alla vicina Domani vado allo stadio Abito al secondo piano Abito all'ultimo piano Abito all'ultimo piano Parlo ai tuoi amici Telefonano agli italiani Vanno allo zoo Andate al bar Sono agli ultimi posti Il turista è all'incrocio Parlo al direttore Fa freddo ai due poli Non ti ho visto alla festa Domani ti aiuto a studiare Chi mi aiuta con le valigie? Vi chiedo di fare il più piano Ti ringrazio per il regalo Il nonno ti vuole al telefono Domani mi accompagnate? Luca vi aspetta in macchina Chi ci vuole accompagnare? Come ti sembra il vestito? Oggi ti vedo un po' stanco Vi siete dimenticati qualcosa? Ci piace molto viaggiare Tu mi hai chiesto una mano È quello che ti sto dicendo Molte persone visitano Venezia Venezia è visitata da molte persone L'artista dipinge un quadro Il quadro è dipinto dall'artista Claudia mangia una mela Una mela è mangiata da Claudia Il cane ha svegliato i vicini I vicini sono stati svegliati dal cane Paolo ha scritto una lettera Una lettera è stata scritta da Paolo La nebbia nasconde gli animali Gli animali sono nascosti dalla nebbia Lui impara molte lingue Tante lingue sono imparate da lui Due amici bevono molta acqua Molta acqua è bevuta da due amici Luca compra una macchina Una macchina è comprata da Luca La mamma cucina il pranzo Il pranzo è cucinato dalla mamma I siciliani producono le arance Le arance sono prodotte dai siciliani Voi guardate un film Un film è guardato da voi Luigi ha rotto il telecomando Il telecomando è stato rotto da Luigi La pioggia bagna le strade Le strade sono bagnate dalla pioggia Loro leggono tanti libri Tanti libri sono letti da loro L'autista guida l'autobus L'autobus è guidato dall'autista Vedremo l'eclissi a mezzogiorno L'eclissi sarà vista a mezzogiorno Ho aperto la finestra La finestra è stata aperta da me Il venditore chiude il negozio Il negozio è chiuso dal venditore Devi cucire il vestito Il vestito deve essere cucito da te Il sole scalda l'aria L'aria è scaldata dal sole Mi raccomando, state molto attenti Noi siamo arrivati Voi ci siete? I nostri figli sono molto felici In questi giorni sto un po' male Sto per andare al parco Tu ci vieni? Claudia è una cardiologa Secondo te ci stiamo tutti in auto? Queste scarpe mi stanno male Quel cappello ti sta bene Non disturbarmi, lasciami stare Non alzatevi, state seduti Come stai? Sto bene, grazie Sto guidando, sono in autostrada Lui è sempre il migliore Queste scarpe mi stanno strette Ieri non eri insieme a noi Ragazzo Ragazzi Pesco Peschi Meccanico Meccanici Fiore Fiori Banco Banchi Viaggio Viaggio Viaggi Catalogo Cataloghi Medico Medici Errore Errori Biglietto Biglietti Amico Amici Albergo Alberghi Bambino Bambini Colore Colori Arancia Arance Sia Sie Farmacia Farmacie Spiaggia Spiagge Casa Casa Case Chiesa Chiese Provincia Provincie Camicia Camice Svizzera Svizzere Bambina Bambine Collega Colleghi O Colleghe Bugia Bugie Tavola Tavole Ciliegia Ciliegie Claudia Chiama Solo me Ogni sera Giovanni Ha dato a me La sua penna Claudia Ha telefonato A te Non è vero? Lui Vuole Che io Ti chiami Stasera Dottore Chiamo Lei E non L'altro Medico Professore Le do il mio compito Domani Mia sorella Telefona solo a lui Per studiare Sì Io conosco Proprio lui Molto bene Ieri Ho dato il tuo Indirizzo Anche a lei Forse Esco Con lei Stasera Marco E Maria Quando Uscirete Con noi Signori Quando Telefonerete A noi Domani Parlerò Di voi Alla Professoressa Non ho dato Niente A voi Ieri Sicuramente Parlerò Di loro Al professore Non scrivo Non scrivo A loro Preferisco Telefonare Forse Parlerò Di loro Al professore No Non scrivo Mai A loro Di삿 A loro Direi Grazie.